Giusto il tempo di far sentire alle due squadre come si tifa qui a Roma! Si scambiano bene palla! Orchere che si supera! Cos'è questo silenzio? Fuori la voce, Roma! Vediamo un torneo sfrutta! Orchere tranquillissimo qui! Finisce! Finisce! Prima go della partita! Chi prende ha giocato! Tiene la lana! Vieni, 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 vieni! Look up, look up! Come in! Yes it is! Uno contro uno! Scivano al pareggio! Si riparte! Si portano a più uno! Indorna a giocane! Ehi, switch it! Switch it! Ha un solo uomo da battere! Ma come c'è arrivato? Un minuto al termine del primo tempo! Un minuto al termine del primo tempo! Portiere che si supera! Fortunata qui, lecchi che dicono no! Si oppone da campione! 30 secondi e suona la campanella! E facciamo tre a due! Si ricomincia! 10 secondi all'intervallo! 5, 4, 3, 2, 1! Un minuto al termine del primo tempo che si sta facendo divertire! Match che ricomincia! 1, 4, 1! E' il gol del pareggio! Situazione nuovamente di verità dunque! Un minuto al termine del primo tempo! Un minuto al termine del primo tempo! Un minuto al termine del primo tempo! 3 a 3! Non ci si può distrarne oggi. È spettacolare. Vediamo se riusciranno a segnarne un altro e chiudere la partita. Provano il gol! Il risultato che torna in equilibrio insegna il prossimo Vincenzo. Ha un solo uomo da battere. Gioco, partita, incontro. Pubblico di Roma, siete fantastici! Grazie a tutti!